Gesù ha autorità nella tua vita. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Con grandissima gioia ed entusiasmo, anche oggi apriamo la parola di Dio e accogliamo il Vangelo che ci viene donato, che è Marco 1, 21b, 28. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento e gli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Se è venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù gli ordinò severamente «Tacci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda «Che è mai questo?» Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito, dovunque, in tutta la regione della Galilea. Amen. Oggi continuiamo questo primo capitolo del Vangelo secondo Marco e se ieri abbiamo ascoltato la chiamata dei primi discepoli, oggi vediamo che Gesù, che si stabilisce a Cafarno, un villaggio davanti al lago di Tiberiade, Gesù insegna, Gesù entra nella sinagoga, come tutti gli uomini giudei erano soliti fare nel giorno di sabato. Ed era una tradizione anche quello di commentare, di dire qualcosa liberamente, proprio dopo aver ascoltato, udito le parole dalla Torah, dalla legge. Gesù interviene, parla, insegna e c'è una novità. Tutti sono stupiti. Tutti sono sorpresi e si dicono «Che cosa è questo?» «Non siamo abituati ad ascoltare queste cose. Chi è quest'uomo? Come mai parla in questo modo?» però erano stupiti in modo positivo perché Gesù aveva sconvolto tutti i loro canoni. Uno stile quale? Lo stile degli scribi. Marco, l'Evangelista, dice che lo stupore della gente era soprattutto per l'insegnamento, per la predicazione da parte di Gesù perché quando parlava Gesù in ebraico Yeshua aveva autorità, aveva forza, aveva potenza e non era come gli scribi che ogni sabato insegnavano. Si comprende da Marco che l'insegnamento degli scribi era una lagna, qualcosa che faceva dormire, qualcosa che non ti faceva cambiare la vita, una routine. Si leggeva la legge, si commentava, si leggeva la legge, si commentava non fare quello, non fare l'altro, dirvi così, una routine continua e niente cambiava. ecco perché sono stupiti, perché quando Gesù è entrato nella sinagoga e ha parlato qualcosa è iniziato a cambiare, hanno sentito parole efficaci, parole che entravano dritte nella loro vita, addirittura dicono comanda persino agli spiriti impuri e li obbediscono, prima avevano paura del male, gli scribi non sapevano come comportarsi nei confronti del male, degli indemoniati, delle malattie. Gesù viene con autorità. Questo è ciò che Gesù viene a portare. Ora, la domanda è questa, come noi stiamo vivendo la nostra fede? La viviamo come erano abituati i giudei al tempo di Gesù che ascoltavano gli scribi e nulla cambiava, il male c'era, gli indemoniati c'erano, le malattie c'erano e tutto andava avanti tranquillo, con la paura, con l'ansia e senza nulla di nuovo. Oppure, vogliamo lasciare entrare questo Gesù, il Gesù del Vangelo di Marco, perché Marco, tra tutti e quattro gli evangelisti, descrive Gesù in un modo meraviglioso, vivace, carismatico, perché comunque Marco è stato vicino, accanto a Pietro, è stato il suo interprete, proprio a Simon Pietro, cefa, e ha ricevuto molto dal suo insegnamento, dalla sua esperienza e ci parla quindi di un'esperienza vissuta. Noi chiediamo oggi, chiediamo in questo anno allo Spirito Santo di fare l'esperienza che Gesù viene con autorità, trasforma la nostra vita, allontana il male dalla nostra vita. Amen? Allora, invochiamo con gioia, con un cuore aperto, il dono dello Spirito Santo e gli diciamo vieni, vieni Spirito Santo. Grazie perché i nostri orecchi oggi hanno udito ciò che Gesù ha fatto duemila anni fa. Spirito Santo io ti chiedo di farmi incontrare Gesù in questo modo, come una persona che ha autorità, una persona che interviene nella mia vita, che cambia il corso delle cose, nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro, che allontana il male da me. Spirito Santo, vieni e aiutami ad essere aperto alla tua azione, aperto alle parole di Gesù. Spirito Santo, vieni e concedemi di sperimentare il fuoco della parola di Dio che cambia oggi la mia vita. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan di oggi, Gesù ha autorità nella tua vita. Ed è proprio così, chiediamolo, di sperimentare come il Signore oggi interviene, apre le porte, spalanca davanti a noi un portone per vivere nella sua grazia e nella sua benedizione. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, buona giornata, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra Scuola Bibblica online, San Girolamo ha detto l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la Scuola Bibblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta, parla a me, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, per che il tuo servo ascoltà, parla a me, Signore.